Ciao a tutti. Nella rubrica Eresie, come molti di voi sanno, tratto di quelle opere, di quei testi, nel più lato dei sensi, la cui vulgata critica insomma viene in qualche modo messa alla prova. E per introdurre l'argomento di oggi vorrei citare la definizione da manuale, diciamo così, della categoria trash data dal suo teorizzatore, cioè Tommaso Labranca, per cui il trash era la ripetizione senza gli stessi mezzi, diciamo, di qualcosa, di un testo, di un film, di una trasmissione. Quindi mi è rimasto in mente l'esempio del re delle televendite degli anni 80-90, Walter Carbone, che invitava in trasmissione Mario Tessuto, tentando di imitare Pippo Baudo, il re dell'intrattenimento italiano, che invece invitava Madonna, no? E questo dava adito al trash. Categoria decisamente abusata nei nostri tempi e utilizzata anche quando non dovrebbe esserlo, cioè lontano dalle occorrenze che ho appena detto. A volte viene inteso semplicemente come sinonimo di brutto, ma non è così, non è solo questo, ecco. Perché questa introduzione? Perché il film di cui vado a parlare, che mi ha così, ho sempre desiderato vederlo, ho rimediato da poco, mi ha colpito in qualche modo, ecco, potrebbe far pensare legittimamente a una versione trash di Guerra Stellare, di George Lucas. Non è così per ragioni proprio tecniche. In effetti, io sto parlando adesso di Star Crash, il titolo italiano è Scontri Stellari oltre la terza dimensione. Questo film viene, diciamo, l'autore è Luigi Cozzi, la lavorazione del film, la preproduzione di fatto inizia prima che Cozzi possa vedere Guerra Stellari, ma Cozzi aveva comunque letto la novelization del film che esce in Italia prima dell'uscita del film stesso. Quindi, diciamo, da un punto di vista proprio strettamente formale, sicuramente, anche se i produttori chiedono a Cozzi una sorta di Guerra Stellari in sedicesimo, anche se molti lo interpretano così, però, diciamo, in termini proprio strettamente formali, non è questo che è avvenuto. Ma Star Crash è un film di cui è interessante parlare e io stesso, accostandomi a questo film, mi rendo conto di avere a che fare con una materia abbastanza densa, difficile da afferrare. Vorrei dire, innanzitutto, che Luigi Cozzi è una figura molto interessante. Sono quegli uomini di cinema come ce ne sono tanti in Italia. Vanta una competenza enciclopedica sul cinema fantastico, che è la sua grande passione, ed è anche un collaboratore abbastanza stretto di Dario Argento. Collabora al soggetto di Quattromoschie di Velluto Grigio e dirige un episodio della Porta sul Buio, che è la serie TV griffata Dario Argento, uscita sulla Rai negli anni 70, e poi farà altre cose vicino e lontano al maestro. Una abbastanza rilevante è la gestione del negozio Profondo Rosso, il negozio di gadget e memorabilia horror argentiane, che si trova tuttora a Roma, in cui io non sono mai stato, ma chissà un giorno magari ci andrò a fare un giro. Ora, Cozzi è un grande appassionato di fantascienza, gli si devono anche delle storiche rassegne curate nella capitale, e mette mano a questo film, questo Star Crash, dopo quattro film, tutti film che si muovono nel solco del thrilling, direi, in senso lato. Solo il primo film è un tentativo di fantascienza fatto in casa, il tunnel sotto il mare, tratto da un racconto di Frederick Paul, che ha scarsissima circolazione, a quanto ne so. Con Star Crash gli danno qualche soldo, non troppi, il film esce in America sotto l'egita dell'American Picture, la casa di produzione di Roger Corman, e a quanto pare incassa anche bene. E' un film sorprendente anche per alcuni nomi blasonati che finiscono nel cast tecnico e artistico. Per esempio Christopher Plummer, che interpreta un ruolo che Cozzi confesse di aver girato in un giorno e mezzo. Plummer era sotto contratto per tre giorni, lui riesce a filmare la sua parte in un giorno e mezzo, interpreta niente meno che l'imperatore dell'universo, insomma deve essere anche una certa responsabilità, essere l'imperatore dell'universo. e Plummer ne ha in qualche modo il carisma e il fascino per interpretarlo. E poi la colonna sonora è firmata niente po' di meno che da John Barry, che il cui lavoro, diciamo, relativo a questo film, non è forse tra i più memorabili, probabilmente, non so, ci sia impegnato o meno, però insomma John Barry è un musicista molto importante, colonne sonore sue, penso che abbia vinto l'Oscar con la mia Africa, non so, però insomma famoso poi per aver di fatto musicato tutta la saga di James Bond fino ai film di John Glenn, e insomma è tanto altro, è tanto altro. In tutto questo abbiamo anche scelte attoriali curiose. Il protagonista, Margeau Gortner, è tra l'altro un ex predicatore, addirittura predicatore bambino, cui viene dedicato anche un documentario relativamente alla sua attività di evangelizzatore, che interseca, ma qui il problema è più dei genitori che suo, interseca proprio anche il malaffare, ecco, la truffa. Poi c'è un giovanissimo David Dasseloff che compare verso la fine del film e la protagonista, il cui nome del personaggio è Stella Star, il nome Stella è un nome feticcio per Luigi Cozzi, torna, per esempio nel film precedente, dedicato ad una stella, unica incursione nel Lacrima Movie, e tornerà come nome della protagonista di Contamination, la versione cozziana di Alien, di Ridley Scott. Stella Star, diciamo il nome del personaggio, l'interprete è la, direi, cosmicamente bella Caroline Munro, attrice che, così, dagli anni 70, ha vissuto il crepuscolo della Hammer ed è stata anche una Bond Girl, la Bond Girl cattiva della spia che mi amava. Caroline Munro, che per gran parte del film sfoggia una Miss che assomiglia molto a quella di Vampirella, è una piratessa stellare che, dopo essere stata catturata su committenza di questo imperatore dello spazio, deve sventare, diciamo, il complotto ordito dal malvagio conte Zan Arn, mi sembra che si chiama così, insomma, per, appunto, per destituire l'imperatore. Questa, grosso modo, la trama. Ultima e, per me, rilevantissima presenza attoriale, l'ho lasciata per ultima, è proprio l'interprete del Villenne, cioè del suddetto conte che ho appena detto. Infatti, qui Cozzi lavora con Joe Spinell. Spinell. Joe Spinell è una delle grandi facce da galera del cinema americano degli anni 70. È il protagonista, tra l'altro, l'unico suo ruolo protagonista, e sceneggiatore del bellissimo thriller, bellissimo e disturbantissimo thriller di William Lustig, Maniac. Con Lustig girerà anche un altro film vigilante, secondo me molto bello e molto poco visto, ma Spinell è presente nel padrino, anzi, nei primi due padrini di Francis Ford Coppola, è presente in Taxi Driver di Scorsese, dove è poi colui che assume De Niro alla guida del taxi, è amico di Stallone, con lui interpreta i primi due Rocky, fa la parte del suo datore di lavoro, il boss di quartiere, per cui Rocky fa l'esattore, insomma, lui è uno strozzino, e poi anche in Taverna Paradiso, il bel esordio alla regia di Stallone. Insomma, e mi sono limitato a dire pochi film, ma Joe Spinell è un viso molto 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 riconoscibile, nel cinema forse migliore, ecco, per esempio è uno dei due poliziotti che taglieggiano i travestiti in Cruising di William Friedkin, quindi insomma la sua faccia, la sua brutta faccia da galera è presente in molti film, e qui è curioso vederlo collocato nel ruolo di un aristocratico comunque, il conte Zantarn che vuole spodestare l'imperatore dell'universo e il cui personaggio è ricalcato, a mio avviso, su quello di un altro grande villain, di un altro grandissimo film della storia del cinema, e cioè il conte Zaroff di La pericolosa partita di Irving Pitchell e Ernest Shodzak, la cui così mi sembra che il modo in cui è acconciato Spinell ricordi molto da vicino questo personaggio che era interpretato nel film del 32 che ho appena citato da Leslie Banks. Ora, ho parlato più di ciò che sta attorno al film del film stesso, ma perché? Perché già tutta questa, diciamo così, questa tappezzeria attoriale così variegata, così a volte blasonata, a volte sembra venire dalla suburra del cinema. Già la trovo affascinantissima. E poi il film sulla scorta di questa trama, anche ingenua, che così ho tentato di abbozzare, è un film per certi versi indifendibile, ma per altri versi, come dire, è impossibile non riconoscere l'atto d'amore al cinema fatto da Cozzi, che si firma col suo nome, diciamo il nom de plume internazionale, Lewis Coates, trovate questo film directed by Lewis Coates. È un film in cui gli effetti speciali denunciano tutta la loro carenza, le astronavi sono chiaramente modellini, sono posticci i raggi laser che attraversano l'inquadratura, ma così come certe caratterizzazioni attoriali fanno un po' ridere, e penso soprattutto a Margeau Gortner, la cui espressività è assolutamente ridotta ai minimi termini ed è oltremodo come dire penalizzata da una acconciatura afro tipicamente anni 70 che semplicemente non si può guardare. Naturalmente gli fa da contrattare la bellezza di Carolyn Murrow che è, come ho detto prima, cosmica, e penso di poterla definire tale visto il film che stiamo parlando. In realtà Star Crash guarda poco a Guerre Stellari e basta incappare in alcune sequenze per vedere come il cuore cinefilo di Luigi Cozzi batta per i classici e batta per Ray Henryhausen. Ci sono un paio di sequenze che vanno direttamente a pescare nell'immaginario di Ray Henryhausen, Jason e gli Argonauti, il settimo viaggio di Sinbad, in particolare la nostra Stella Star viene attaccata da un gigante ripreso in stop motion che si muove proprio come ripete proprio le sequenze d'azione dei film che ho appena citato. Tra l'altro gigante che le viene scatenato contro dalla regina delle Amazoni interpretata da Nadia Cassini. Quindi anche qui ha altro volto questo molto legato al nostro Cinema Biz ma anche alla televisione, al mondo televisivo italiano. I set, come dicevo, denunciano il pauperismo della produzione e gli snodi narrativi sono veramente labili. Ora, senza voler difendere ciò che non è possibile difendere, se è vero che la trama, la sceneggiatura è traballante, non si capisce a volte il perché i personaggi agiscano come agiscono e facciano quel che fanno sostanzialmente, però è anche vero che è facile cogliere all'interno di questo film la struttura, l'atmosfera della favola. Siamo veramente in un mondo favolistico e a questo punto traslando potrei dire quasi dell'epica dove può succedere praticamente tutto. Può succedere tutto senza bisogno di giustificarlo. Chissà, se forse Coffie avesse avuto più soldi a disposizione, magari un criterio più stringente nella scelta degli interpreti, forse tutto questo sarebbe emerso in modo molto più forte, senza arrivare all'autoparodia che ogni tanto sembra emergere da questo film. Però è vero che come è stato scritto Star Crash non è debitore di George Lucas ma semmai è debitore di Georges Méliès un altro un altro George un altro George Georges Méliès del quale cattura decenni e decenni dopo la meraviglia quella che è proprio la meraviglia di trovarsi di fronte a uno spettacolo che è impossibile che è il cinema. Se non che quando Méliès gira i suoi film il cinema era veramente uno spettacolo impossibile cosa sono 60 anni dopo non è più così 60 anni dopo il cinema non è più quella macchina di meraviglia o meglio lo è in maniera diversa però non è più quello che era quando negli anni dieci Méliès licenziava i suoi grandi film. Ora ha senso un film come Star Crash? In realtà sì e secondo me per una ragione perché io guardando questo film io ho pensato con un'invidia che mi ha divorato ho pensato a quanto si deve essere divertito Luigi Cozzi nel girare Star Crash perché poche volte si ha l'impressione di vedere un cineasta che mette mano a ciò che voleva fare più di ogni altra cosa cioè in qualche modo un cineasta che veramente crea il suo mondo. Io questa cosa l'ho vista l'ho sentita con alcuni film primo fra tutti il mio amatissimo I cancelli del cielo di Michael Cimino che come dire porta al collasso questo tipo di ambizione ma ci restituisce in quest'opera cesellatissima il massimo desiderio di amore cinefilo che Cimino poteva appunto albergare in sé l'ho sentito anche in La La Land di Damien Chazelle un film in cui viene mi è sembrato che Chazelle mettesse dentro tutto ciò che lui ama i cromatismi di Jacques Demy la lezione del musical degli Stanley Donen e di Gene Kelly e l'ho sentito anche in un film come Silence di Martin Scorsese progetto inseguito a lungo a lungo tempo e molto più personale idiosincratico del a mio avviso sbagliato Gang of New York sbagliato in modo diverso e superfluo dirlo da come può essere sbagliato Star Crash però io ho l'impressione che Coffi abbia fatto questo e quindi in queste sue scenografie falsissime con la goffaggine diciamo così del montaggio nel mettere insieme queste sequenze d'azione come le battaglie galattiche che poi diventano battaglie di fanteria all'interno delle astronavi eppure l'impressione è quella di vedere un bambino che gioca con i suoi giocattoli pieno di amore e di entusiasmo e questa cosa non può lasciare i differenti io raramente ecco mi sono imbattuto in questa sensazione davanti a questo film a questo giocattolo diciamo pure ed è non è cioè definendolo giocattolo non lo come dire neanche per un secondo penso che sia spregiativo perché è la in qualche modo è la traduzione del divertimento che uno spettatore come me e un creatore come Cozzi può aver provato in quel momento e diciamo di fronte a questo giocattolo coloratissimo il film recupera un tipo di di fotografia che è quella di Bava quella cioè di di colori che piovono dal nulla senza nessuna giustificazione diegetica insomma tutto questo a mio avviso lo rende un film uno dei io scomodo più ancora del del trash che non gli si addice affatto una categoria truffotiana quando François Truffotio realizzava il grande film malato quel film sbagliato per il troppo entusiasmo del suo autore e Star Crash è un grande film malato tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata grazie a tutti